Siamo alla seconda del convegno, è una corsa ricevata ai gentlemen con cavalli di quattro anni sul miglio. Due cavalli non corrono, Upsided Griff numero due e l'undici di Urasi, ne rimangono in dieci. Per il momento Universal Prayer con il buon francese, molto gettonato, così come la scuderia Upside è unica. Io vi concedo e prendo qualche secondo di silenzio per ricordare un grande amico prematuramente scomparso, Carlo Saturno, è un anno che ci ha lasciato, ma la sua presenza veramente è stata sempre la migliore. Non c'è più e noi lo ricordiamo con questo po' di silenzio, con il lancio di questa corsa gentlemen. Sono partiti e così al comando Upside O'Pine, confronti di Utopia Capar, che cerca di parcheggiare, poi unica che è partita bene. A largo viaggia Universal Prayer, che punterà in avanti. 400 in 32, Universal va sui primi e si trascina l'8 di Ullalà Dorio, lontano e di galoppo il 9 di Udini giù. Si completano i 600 iniziali, 600 che se ne vanno in 45, quindi si viaggia da 1.15. Allunga bene Simioli, mantiene il comando, a largo Universal. Poi ci sono altre pariglie, ha avuto problemi Upside e quindi Freeway per francese, 1.1 meno qualcosa il mezzo miglio, ma non riesce ancora a scendere lungo i birilli francese e ne approfitta Utopia Capar. Cavalià al chilometro, torna in vantaggio francese sostenuto il suo cavallo. 16.2 il chilometro, 500 alla metri, si fa notare Ursus Model con il giovane Rubino, numero 12 e va a parcheggiare. I Cavalià affrontano la curva finale al comando Universal Prayer, 14.6, 1.38, 3.4 di miglio, l'Expluacaf allenato da Biscotto Panico in vantaggio. Poi Ursus Model, ormai il discorso è tra i due, allunga Universal Prayer, prende vantaggio e mi sa che il francese porta a casa una vittoria da Circoletto Arcobalena anche se è un po' fortunata. Fortunata e bravo, francese, bravo e fortunato. Rientra bene unica, numero 5 e fa sua la terza moneta. Quindi 7.12.5, 2.1 e un po' di spiccio, 1.15.8, 1.96 in chiusura, ricordando un grande amico Carlo, Carletto Saturno, che non c'è più questa corsa, il buon francese, ma non soltanto lui, tutti quanti noi lo ricordiamo, è veramente Carletto. Ci manchi tanto, anzi, tantissimo. Linea allo studio.